Papà in casa risolse il problema delle munizioni, siccome lui lavorava il vino, lo imbottigliava, eccetera, ha risolto il problema. Noi in cantina avevamo dei quadrati di bottiglie pronte per andare via, tutte piene. Allora lui aveva fatto un buco, in quel buco lui imbottigliava le palottole, poi le tappava e in quel buco ci mettevamo la nostra mercanzia, cioè le nostre armi, tutto quel che avevamo. Poi in cucina, siccome avevo le mattonelle e essendo pian terreno la cantina era volti, voi sapete che i volti fanno così e poi fanno così, no? Allora nel mezzo c'è un vuoto, c'è tra un volto e l'altro c'è un vuoto. Papà aveva tolto una mattonella proprio sopra uno di quei vuotili e lì ci mettevamo tutto e facevamo scorrere dentro le armi, le rivoltelle, i fucili, tutto quel che avevamo lo facevamo scorrere lì dentro. Mettevamo la mattonella e ci tiravo sopra il cantarano, cioè il coso dove ci facevamo il panno. Per cui, capisci, tutto era veramente difficile poter vedere che lì ci fossero delle cose pericolose. Perciò era diventato il punto dove tutto arrivava, capisci? Però Torelli a un determinato momento dice, Laila, non è abbastanza quello che fate, perché voi fate tanto per i partigiani e per noi, però bisogna che cominciate a prendere coscienza di quello che sarà il vostro futuro. Speriamo che sia un po' più buono di quello da adesso, però... E allora dice, se sei d'accordo, fai, prepara una riunione di tutte quelle che lavorano con te e io faccio venire un dirigente comunista, se siete d'accordo. Perché per noi, capisci, comunisti, socialisti, non facevamo differenza, che ne capivamo noi di politica. Non l'avevamo mai fatta. Cioè, il fascismo, tu dovevi solo leggere quello che ti dava loro, non avevamo anche il diritto di commentare. E allora abbiamo fatto la prima riunione con Paolo Davoli. Cioè, prima mi ha fatto incontrare con Paolo Davoli, il quale mi ha spiegato quello che era importante per le donne che dovevano discutere quello del loro futuro, perché quando noi avremmo vinto la guerra avremmo fatto le lezioni, che le donne dovevano partecipare. Cioè, capisci, spiegava che le donne dovevano conquistare i medesimi diritti degli uomini. Figurati quanto ci andava bene per noi questa faccenda. Cioè, capisci, in quel momento ci siamo resi conto che il nostro futuro poteva essere cambiato, che non era sufficiente operare come partigiane, ma bisognava avere anche una certa consapevolezza. E solo che eravamo talmente ignoranti che, guarda, era una cosa triste proprio. Ho fatto due gruppi di difesa della donna e veniva un operaio, credo che fosse un meccanico, del bloc, abbiamo fatto due o tre riunioni.